Dovete sapere che il buon Travis Trofeolo 35 di gara di schiacciate da fermo 70, no scusami, 69 di schiacciate in entrata, 78, vabbè insomma può diventare 79 Sì, nel senso, vabbè, 70 di schiacciata Slam Dunk Contest, baby Facciamo questa di prova così vediamo e poi ti faccio provare anche a te che c'è da... Ma cazzo, ma perché nascondono le cose? Era così tipo, no? C'era lo Stargame, ho detto vabbè, sarà la prossima, no? E vado a sostituire quello che ho fatto alle 16.54 quando ho fatto il danno Oh sì, gara delle schiacciate Oh Zion, oh, chissà chi la vincera mai Votti a caso Waiting Room per noi Per cominciare comincio con una blu tanto per... Tanto, ce la voglio dire, vanno a cazzo Adesso vedi, devi prendere possibilmente proprio sulla riga Ok Uno e due Ah, c'è due Sì Non dipende tanto da che schiacciata fai, ma quanto vicino vai alla riga Più vicino sei alla riga, più... Più è provabile No, va dentro lo stesso, ma secondo i giudici ti danno più voto No, 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 no Vedi, 22 Capisci? 22 Cioè, voglio dire 22 Il Mimbo nella realtà è 36, esatto Mi hanno dato 14 punti in meno Let's go Adesso vedi come si è vicino alla barra Vedi, devi fare... Così? Più o meno, sì Vedi che è già più corta la prima L'ho segnata, ma lo sono riuscito No, forse l'ho segnata Sì, credo che sì Sì, l'ho segnata, però mi dava 30, tipo Cioè, nella gara di schiacciate comunque non è la miglior schiacciata di sempre Ma non ti danno 31, no, per una schiacciata del genere Dipende tutto da dove becki la riga Sì, esatto Ah, non so se... Si capito sempre sulla hot potato Eccolo, ci siamo, ci siamo Now it's time Oddio Piccolissimo Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? ti sei appeso e l'hai riscacciata tipo let's go home ma come? ma perché? 33 ma come fa a essere 33? ma era da 100 tipo ma come 33? gli anni di cristo ma era bellissimo ma signor WK come facciamo? quella schiacciata così ma dai era proprio da let's go home let's go home così era 33 adesso faccio io una gara delle schiacciate che è già pronta poi ne fa una lui e chi fa più punti vince solo difficile solo nero sì sì difficile allora io farò lancio 360 triple S per me mi piace il nome vai mi sai che perdo faccia io sono veramente stronzo a fare queste cose tu non mi sbaglio beh l'ho chiusa ma nel secondo un po' ti perfetto e poi se non ho preso quel mondo beh 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 43 lo considero una grandissima vittoria 43 a 1 non sono l'ultimo mamma mia easy 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 non ultimo a me danno 33 ma altro cazzo traiano nelle gare contro il trevolo porca troia tipo quella di Viscarter e Tracy McGrady potrebbe essere questa qua vediamo con Ricky Rubio ma perché che era oh no oh no oh no l'ho trollata è finita no porca aia che sono erano dentro dei due aia eh devo mettere devo fare due su tre perché lui due ne fa sicure ma non fa culo eh due sicuro ma proprio sai sicuro special delivery oh sì per la vittoria contro il trevolo la special delivery let's go è 43 il due è il battolo c'è mia chiusali eh dai chiede un po' la prima vabbè vabbè intanto l'ho preso due su tre questo era l'obiettivo bella sotto entrambe le gambe ci sta ci sta ci sta dai almeno col tre davanti cioè non facciamo scherzi eh 29 e ho fatto 62 no 72 boh più del mio primo 29 se Trevor vince la gara delle spiacciate non contro di me del game boom baby regalo due sat andiamo su tap in the glass che quelle più in foto sono le più difficili eh credo non vediamo ma no a vedere oh no a vedere oh no a vedere oddio 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 è una tipogna perfetta ma sarebbe qualcosa ma no oh no questo è finita ma che schifo sei a cagare no si dai 50 è pazzesco si ma perché e comunque faceva cagare come schiacciata faceva vombare la nicchia non so cosa sia questa dai proviamola è nera oddio oddio è il secondo la prima l'avevi fatta bene ok i miei due sub sono tranquilli si va con questa niente hot potato è chiusa il primo era perfetto vediamo il replay dovrebbe essere carina in mezzo alle gambe e mi sa che hai vinto 47 cioè con un altro 47 invece che 0 io ero il primo eh se non l'avessi cappellata eh ma perché sono i riflessi da codaro no? ma basta quando ti vedi un nemico vado ragazzi ti servirà questo trigger finger per la World War 3 è anche se non l'avessi da solo avessi da solo e quindi Armstrong dicello che sembrava